Nell'ambito di un'attività investigativa svolta dalla locale procura della Repubblica è stato disposto dal GIP e presso il Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella su richiesta del sostituto procuratore Simonetta Ceccarelli un sequestro preventivo per una somma complessiva di 470.000 euro. Il provvedimento cautelare eseguito dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza giunge al termine di indagini delegate dalla procura della Repubblica dell'Aquila al locale corpo di polizia municipale. Le investigazioni svolte hanno riguardato un grave episodio di indebida percezione di un contributo pari a 470.000 euro circa corrisposto dal Comune dell'Aquila ad un soggetto privato che aveva falsamente attestato di averne diritto per la ricostruzione e ristrutturazione della propria abitazione principale gravemente lesionata dal sisma del 2009. Gli investigatori a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria hanno accertato che il richiedente del contributo attraverso false autocertificazioni aveva attestato che l'immobile beneficiario della studente misura di sostegno pubblico era adibito ad abitazione principale o stabile dimora, mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituale dell'istante, all'epoca del sisma, si trovava a Milano. Gli accertamenti consentivano tra l'altro di accertare che l'indagato non solo non aveva mai dimorato presso l'abitazione per la quale era stato richiesto il contributo, ma l'aveva addirittura concessa in locazione a terzi. I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale svolte dai militari della Guardia di Finanza che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili al responsabile del reato accertato.